Soddisfatta perché c'è un riscontro molto bello, un riscontro di comprensione, di gioia, di felicità, di voglia di condividere e quindi cosa devo dire? Mi sento fortunata. 1992 gli eventi più importanti di questa data e tra i quali c'è anche la nascita di questo negozio, quindi era per dire grazie.